Allora, non link! Sì, ma di... di faccia! Brutto essere fatto! Nooo! E' di cuore di merda! Super fail! Aspetta, aspetta, usiamo un... Aspetta, aspetta, un'altra roba! Mi ascolti? Prendiamo uno... Più vicino! Prendiamo uno scottex, lo mettiamo un po' di mirtolo e lo mettiamo lì. Prendiamo un altro scottex, lo mettiamo fuori e ci diamo la scottex. Si arriva e si accende! E così non ci ustioniamo le mani! È vero! Sono l'ingegnere cane! Che specco! Vabbè, con la birra! Siete dei meno zappati del cazzo! Oh! Vai, caramicia! L'accendino, dov'è l'accendino? Eh, ce l'ha da Jenny! Dammi l'accendino! Non funzionerà mai! Proggiole per terra! Metti qua, metti qua la miccia! Aspetta, dammi da faccia io! Perché ti faccio di qua, lo accendiamo di qua! Farò passare da qua che vedi? Così non mi ustiono! Buono, bello! E' esperimento più intelligente! Si, ma ci metterà un anno! Non è vero! Brucia subito! Ti devi mangiare un po' la miccia 마rico! Prima che io venga e ancora che brucia, quanto si scrive! Ha, chiamato allora che arrivi gli sei fezzata! No, si ferma! Non vedo, no non si ferma! Vedi, vedi va su! Oh, no! Non soppiare! Non soppiare! Adesso va! Adesso arriva! Dai, dai! Ammi il mio intorno è! non mi metto qua dai 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 no perchè si che lì è tutto tocciato no sai qual è il problema? è che l'hai infilato dentro il coso il vetro assorbe calore arrivo dai mettilo dentro poggia 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 si sta spiegando ma poggia si mi cazzo non so che se il dio no ormai ma io poco ma non sapete farlo un'altra parte che c'è un'ora che rompe non fa la teglia troppo spai toccato di qua romanzo di ma dagli fuori voglio cosa togli con la catturina ma non prenderà mai la più giustione civile poggia dove perché per c c uccido ho 30 gradi mica dall'alto fa fatica a prenderli in giro in effetti ma porco ci avete messo però sta prendendo quello che ha deciso io e l'ho preso io mi allontanerei se sbloda il vetro e fa un tiro di quello se vuoi che si floda dai eh sbloda il vetro se fosse uno spazio è chiuso intanto sei allontanato di tutto dite tanto ma sicurezza dite ma porco dio se spremi neanche adesso ti sta spegnendo ma Mirto prendi ma no c'è qualcosa che abbia almeno 50 gradi secondo me ci avete messo due gocce e due millilitri per accorgere meno ma no quando fanno adesso c'è una bottiglia ora non 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 quando fanno non non